io non lo so se riesco a partire da qua non lo so se riesco a partire da qua non lo so se riesco a partire da qua risolto il problema risolto il problema non lo so se riesco a partire da qua non lo so se riesco a partire da qua ormai un trattore e oggi penso che le condizioni sono veramente pessime io non me lo aspettavo di ripartire da là pensavo che non partiva si 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 è aperto facile ma comunque l'altra volta io qua già stavo in problemi ma proprio assai un centipetro di abbassamento dietro cento 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 dieci andiamo la 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 Grazie a tutti. 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 La stanchezza è un male a fare. La stanchezza è tremenda. Una prete, una prete, una prete, una prete, la puoi spostare. La stanchezza è un motore è un motore a terra. Grazie a tutti. La stanchezza è un motore a terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La stanchezza è un motore a terra. Grazie a tutti. 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 di potenza. non andiamo a tutti. ma anche a tutti. non andiamo a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.